Vado io! Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti? Eh, ma che... I segreti ci vuoi avere? Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri crollari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo i segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto c'ho voglia di scopare. Tante volte puoi essere il T9, eh? Che cazzo dici? Si è troppo innamorato di mamma per capire quanta stronza. Le ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa. Oddio se capitasse a Rosa. Amore, Rosa compie sei anni a giugno. Io non lo so mica se sarei una brava mamma. Ma perché sei incinta? Allora la vostra! Non c'è ancora niente da brindare. C'è il fatto che qualcuno scopa. Questi cosi ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato. Io, se hai un amante, non lo voglio sapere. Parla, parla, sono i tuoi migliori amici. Magari anche loro vogliono sapere, no? Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu, tutta rifatta, io senza parole. Dami quel telefono! Dami quel cazzo di telefono! Gioga. Siamo amici da buono, siamo ragazzini. Ma vuoi dire chi sei? Mi dici da quanto d'ora? Riccata. Steve Jobs! Ma non era morto. Invece sarà vivo che amava mia moglie. Ma non era morto. Grazie per la ossла! Iscriviti al nostro descriz Cord.